Buongiorno, buon martedì 6 di novembre. Buongiorno a tutti, ben trovati alla nostra rassegna stampa che inizia subito come sempre dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal centro che già vedete alle mie spalle nella edizione di Pescara, il titolo di apertura è sul poker del Pescara che risale in vetta, show di Del Sole nei minuti finali. I biancazzurri stendono il Lecce con un secco 4 a 2, vedete proprio nella fotografia l'esultanza di Del Sole dopo la seconda rete decisiva contro il Lecce. Lecce alle sue spalle, Gravion, autore del secondo gol del Pescara. I biancazzurri si legge nella didascalia, hanno dato ieri all'Adriatico una prova di grande forza, segnando nei minuti finali la doppietta che stende il Lecce. Vale il ritorno in vetta alla classifica di Serie B. Nel taglio alto, doppio test sulla tenuta del governo, prescrizione, decreto sicurezza, Lega e 5 Stelle alla prova del fuoco e poi la Champions League, Inter e Napoli, notte magica, sfide con Barcellona e Paris Saint-Germain. Andiamo a vedere il primo piano per le aziende, posti di lavoro, ecco i 4 nuovi bonus per assumere incentivi dunque per le aziende al fine di creare occupazione, sono quelli contenuti nel decreto dignità e nella legge di bilancio che si appresta a iniziare il suo iter parlamentare. E poi ancora in Abruzzo sono tre gli Iper che passano a Conad con oltre 1000 lavoratori, l'alleanza fra Conad e il gruppo Finiper trova nuova concretezza nell'operazione di affitto di ramo d'azienda a Conad di 6 Ipermercati con insegna Iper per un totale di 44.000 metri quadri situati lungo la costa adriatica, tre dei quali sono in Abruzzo. Andiamo a vedere poi nelle cronache a Pescara, Comune, Via, ai concorsi per 13 posti saranno pubblicati entro la fine del mese i primi bandi del Comune di Pescara per l'assunzione di 13 unità. Tra gennaio e febbraio dovrebbero partire gli esami, per le altre otto posizioni è stata seguita la procedura di mobilità esterna volontaria. A Pescara si prepara una svolta dopo il voto, scontro tra PD e Di Matteo, Diodati in bilico, è cominciata dunque la resa dei conti, scrive il centro nel centro-sinistra. Dopo la sconfitta alle elezioni provinciali, lo strappo di Di Matteo che ha contribuito alla debacle del PD potrebbe portare Alessandrini a estromettere di nuovo dall'aggiunta Diodati. Poi ancora Farindola, Rigopiano, Via, le macerie dalla piscina e la richiesta del comitato vittime. Poi ancora Mercato di Via Pepe, allarme e borseggi, Pescara, furti e minacce ai clienti, Nazione, una squadra di vigili in Borghese. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Elisa e Matteo, com'è bello dirsi addio. E' una riflessione sul post che annuncia su Instagram la fine della storia d'amore tra il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Una foto di un momento di intimità tra i due che ha fatto e fa discutere. Proseguiamo sul centro, adesso andiamo a vedere l'edizione teatina del quotidiano d'Abruzzo. Indagato il parroco di San Giustino, il titolo di apertura chiede inchiesta sulla scoperta del corpo mummificato, muro rotto senza permessi. Poi a centro pagina il lavoro da difendere, sindaco col tricolore davanti alla bolle, ora resistenza contro i 70 licenziamenti a San Martino sulla Marucina. Si schiera il sindaco di Rapino Rocco Micucci che festeggia davanti alla bolle di San Martino sulla Marucina. La giornata dell'unità nazionale porta il tricolore davanti all'azienda che ha annunciato la chiusura a gennaio prossimo licenziando 70 dipendenti. Intanto per la bolle si annunciano due incontri importanti, il primo ci sarà domani in Prefettura a Chieti. Andiamo a vedere poi nelle cronache di spalla, Lucida Artista per Natale pagano i negozi. Firmato il patto fra Comune e Camera di Commercio per le Lucida Artista a Chieti, dall'8 dicembre al 20 gennaio l'amministrazione investirà 40 mila euro, gli altri 30 mila arriveranno dai commercianti. L'assessore Di Biase svela il calendario. A Vasto, Pizzo al cimitero, rischio processo per 14 indagati, rischiano di andare a processo i 14 utenti del cimitero di Vasto che pagarono tangenti ai tre arrestati. La procura sta ultimando il fascicolo che potrebbe portare alla richiesta di rinvio a giudizio anche per chi ha collaborato nell'inchiesta. A Lanciano, via ai concorsi, Comune assume 19 dipendenti, è la notizia appunto che arriva dalla città frentana e poi ancora l'influenza. Si parte con 70 mila vaccini al Via La Campagna dell'Asda a Chieti e Provincia. Ecco i 12 ambulatori disponibili. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere il titolo principale dell'edizione di Teramo. Muore dopo l'intervento al femore, i familiari del 65enne denunciano, scatta l'inchiesta sui medici del Mazzini. Poi a centropagina nella fotografia sopravvive al sisma in Nepal e lo racconta in un film un giovane di Pineto con un regista teramano. Con questo documentario si racconta appunto il dopo terremoto in Nepal. Andiamo a vedere di spalla Giulianova, tassa di soggiorno, appello a soldà degli operatori turistici. Marco Di Carlo, di Federalberghe, ex presidente della consulta per il turismo di Giulianova, incontrerà presto il commissario prefettizio e gli chiederà di destinare gli introiti dell'imposta al comparto, in particolare agli eventi per il 2019. E poi in Val Vibrata c'è meno olio ma è di qualità, prezzi in salita. Il tecnico della CIA Fabrizio Di Bonaventura fa il punto sulla mulitura delle olive in Val Vibrata e dice in sostanza quest'anno per il clima e l'azione della Mosca la produzione è diminuita ma è di qualità. I prezzi dunque sono in ascesa. E poi diamo in municipio a Roseto il triste saluto della città a Fossataro. Ancora terremoto previste, 12 mila pratiche e la stima dell'ufficio speciale per la ricostruzione fracassa. Dice si rischia il caos. Ancora sul centro, resta da vedere insieme l'edizione aquilana del quotidiano d'Abruzzo. Svelato il monumento alla memoria, il titolo di apertura, l'Aquila ricorda la casa dello studente con un progetto dei laureandi a 10 anni dal sisma. Andiamo a vedere poi il centropagina, la fotografia, liceo inagibile, la sentenza del TAR viene sospesa, l'Aquila nuovo colpo di scena per il Cotugno. Il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza emessa il 2 luglio dal TAR, che aveva dichiarato inagibile la sede del liceo a Pettino, accogliendo un ricorso di alcuni genitori e docenti della scuola sulla mancanza di sicurezza della struttura. Poi all'Aquila, al via, le vaccinazioni di influenza, anche nella provincia aquilana, disponibili 54 mila dosi. Poi, riunione a Fossa, ricostruzione al palo, sindaci in rivolta, stavolta la protesta parte dal basso, a capeggiarla sono i sindaci del cratere 2009, dopo l'uscita di scena dell'USRC del titolare Raniero Fabrizi, il cui contratto è scaduto e non è stato sostituito, per cui i lavori si bloccano giovedì, riunione a Fossa. A Roccaraso, gli chef stellati fanno lezione all'alberghiero, ancora insulti agli alluvionati, l'ASL si scusa, Vezzano dopo il post sul Veneto di un dirigente, si scatena la bufera sui social. Lasciamo il quotidiano e il centro, cambiamo testata, andiamo a vedere la prima pagina dell'insetto Abruzzo del messaggero, Faro sui pilastri di A24 e A25, il titolo di apertura Pescara, sul tavolo della Procura il dossier di nuovo senso civico sul degrado dei viadotti, nel fascicolo foto e documenti che metterebbero in dubbio la sicurezza delle autostrade. Poi ancora la catastrofe Rigopiano, in vista anche a soluzioni, l'inchiesta sul disastro sarà chiusa entro il 18 di novembre, è quanto hanno lasciato intendere in procura ai 23 familiari delle vittime che ieri appunto hanno fatto un incontro con i magistrati. Andiamo a centro pagina adesso, muore in corsia paziente operato per una frattura. A Teramo, l'uomo stroncato dalla setticemia, i familiari denunciano e disposta l'autopsia. Ancora a centro pagina andiamo a vedere la serie B, che abbiamo già visto in precedenza sul centro, Mancuso Gravion è il numero 29, Domano il Lecce in nove, Pescara nel segno di Del Sole, 4 a 2 e Primato. La squadra di Pillon ha messo a segno il poker che vale la vetta di spalla, suolo vulnerabile nella regione, oltre 700 strutture abusive, insomma si indaga anche nella nostra regione dopo i fatti ultimi in Veneto e in Sicilia, eseguite solo 259 ordinanze di demolizione sulle 983 emesse dai comuni. Il tema dell'abusivismo si incrocia con la sicurezza in caso di calamità naturale. E poi nel taglio basso, verso il voto, Fratelli d'Italia replica Forza Italia, così ci facciamo male. Andiamo nel taglio alto, per i richiami delle altre notizie. L'Aquila svelato dopo il restauro, il murale di Fulvio Muzzi, poi la spaccata, ladrigolosi scappano con Pecorino e Ventricine per il calcio. Teramo, due bomber nel mirino, Avezzano a dicembre si cambia. Il notaresco rivelazione è il passo del Cesena, rivoluzione in arrivo tra i marsicani, va stese finalmente con il passo giusto, reale da Tridente. Questo è il sunto anche sulla serie D. Proseguiamo con la città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura, notizia che abbiamo già visto, muore dopo un intervento al femore, 65 anni di Castellalto, finisce in coma e si spegne un mese dopo un'infezione. Aperta l'inchiesta. A centropagina, una tomba sulla torre. A 12 anni dal crollo, stanziati i fondi per chiudere la discarica. E ancora, a processo per il taglio degli alberi. In tre ne avrebbero abbattuti più di quelli autorizzati. Andiamo nel taglio alto adesso. Ufficio tecnico paralizzato al Parco della Scienza. Gravi difficoltà logistiche dopo il trasloco. I costruttori del Lance fanno un richiamo al governo sui problemi del terremoto. Di spalla, Roseto rende omaggio a Fossataro, il signore del basket. E poi a Giulianova, la foce del Salinello fa ancora paura. Nel taglio basso, andiamo a vedere Teramo, Migranti scatta la fronda anti Salvini. E poi per il teatro, la stagione di prosa del Comunale Alvia con Danieli e Desio. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Lega contro 5 Stelle sulla prescrizione colpo di mano. Il titolo che apre il giornale, manovra l'Unione Europea. Dialogo ma rispettare le regole. E poi ancora il Presidente Trump con il dito verso il cielo. Perché oggi ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Oggi le elezioni paese. Mai così diviso un referendum su Trump. secondo Aldo Cazzullo che appunto fa questa riflessione sulla prima del Corriere. Poi ancora c'è l'editoriale di Massimo Gaggi. Il voto americano dagli USA messaggio all'Europa. Andiamo a vedere anche in Italia che cosa è successo per il maltempo. La Valle delle Case abusive. In Veneto gara di solidarietà. La strage in Sicilia. Tajani. I fondi europei. Ci sono. Questo è il titolo che si richiama a quanto abbiamo detto in precedenza. Andiamo su Repubblica. Anche qui il titolo di apertura sulle elezioni di midterm. Il voto che fa tremare Trump. Sanzioni in Iran graziata all'Italia. I democratici cercano la riscossa nel midterm. I rapporti Roma-Teran valgono 5 miliardi. L'Italia, così come la Grecia per quanto riguarda l'Europa, è stata esclusa dalle sanzioni per chi fa affari con l'Iran. Sanzioni da parte degli Stati Uniti. E poi andiamo a vedere il taglio basso quelle foto dell'ultima festa. Il giudice uccisi dall'abusivismo per quanto riguarda la tragedia di Casteldaccia. Andiamo sul sole 24 ore. Stati Uniti via al giro di vite sul petrolio iraniano graziata l'Italia. Le nuove sanzioni scatta il secondo round delle restrizioni americane colpite energia e finanza. 8 paesi in deroga continueranno a importare greggio iraniano per 6 mesi, tra cui l'Italia. Rouhani contrattacca. Siamo in una situazione di guerra economica. Poi ancora sulle elezioni in America. L'America giudica Trump. Sondaggi i democratici avanti. Vedremo se Trump riuscirà come nelle presidenziali a sovvertire i pronostici. Ancora a Bergamo, centro di smistamento per il nord Italia. Amazon sono 5.200 gli occupati in Italia. Proseguiamo con la stampa. Democratici all'assalto del congresso statunitense per indebolire Trump. Questa è la lettura del quotidiano torinese. Quasi un referendum sul presidente. Scontro su economia, migranti e diritti. Oggi gli americani alle urne per il rinnovo di Camera, Senato e governatori. All'ultimo voto la sfida fra le tribù Yankee, il titolo dell'articolo di Gianni Riotta. E poi ancora al bazar di Teheran. Le sanzioni fanno tremare il regime. Pronto per quanto riguarda le sanzioni decise dagli Stati Uniti. Andiamo sul fatto quotidiano dove si cambia registro per quanto riguarda il titolo di apertura. Stupi, tuffe, spaccio e reati che la Lega vuole prescritti. Impunità, Salvini difende la prescrizione. Conte è nel contratto e convoca i due vice premier. Poi i verbali del caso Consip. Matteo Renzi, le domande che non gli hanno mai fatto. La procura di Roma chiede poche cose all'ex premier. Nulla sulla telefonata con il padre. A centropagina il caso maltempo e le case abusive. Sicilia, Italia, appena mili abusi demoliti su 8 mila. Ecco perché quasi due nuove abitazioni su dieci sono fuori legge. Andiamo sul messaggero adesso. Il titolo di apertura è sulla prescrizione. Stop Lega e 5 Stelle sulla manovra tregua con l'Unione Europea. Il titolo che apre il giornale. No del carroccio al nuovo emendamento grillino. Decreto sicurezza slitta la fiducia. Tria all'Eurogruppo. Il deficit al 2,4% non si tocca. Ma ora con Bruxelles si tratta. Poi la riforma sbagliata. Il paradosso di una stretta che premia l'impunità. Scrive Carlo Nordio. Poi ancora Parnasi pagavo i politici da sempre. Assolto Cerroni, re delle discariche. Stadio, le ammissioni del costruttore nelle carte depositate dalla procura. Poi ancora le sanzioni all'Iran. Washington ha deciso di escludere l'Italia. Altri sei mesi di import del petrolio per Roma. Sul quotidiano Il Tempo. Assolto Mr. Mondezza. Cerroni innocente. Cadono le accuse per il capo della discarica di Malagrotta. Il 92enne in lacrime al tempo. Ho pulito Roma per anni. Chi mi voleva morto? E poi il post che abbiamo già visto. O meglio di cui abbiamo sentito parlare. Adesso lo vediamo. Il post così discusso di Elisa Isoardi. Eccolo qui. Foto romanzo viminale. È il titolo che fa il tempo. Capolinea la storia d'amore tra Salvini e Isoardi. Lei finita da mesi. Lui qualcuno voleva altro. Andiamo su avvenire. Cambiamo tono. L'affondo di Trump è il titolo di apertura. Via le sanzioni all'Iran. Italia per ora esentata. Pressing sul regime con l'alt all'export di Greggio. Gli USA lanciano nuove misure punitive. L'Unione Europea tenta di tenere aperto un canale con Tehran. Ruani siamo in guerra. Le aggireremo. E poi l'abusivismo uccide ancora. Si cercano i fondi per il ristoro dei danni, la tragedia in Sicilia e i disastri provocati dal maltempo. Poi tensione Lega 5 Stelle sulla prescrizione del decreto sicurezza su cui è stata messa la fiducia. Proprio per evitare l'affronda possibile dei 5 Stelle, segno delle tensioni nel governo. Andiamo su libero. Abusivi e criminali. Edificare casa senza permesso è un delitto. Al sud nessuno combatte le irregolarità perché i politici hanno bisogno dei voti di chi costruisce fuori norma. Le aziende fornitrici di gas e luce abbozzano e delinquere. Diventa costume sociale. Questa è la posizione di libero. La Isoardi e Salvini si lasciano. Ciao Matteo, mi mancherà l'amore che ci saremmo dati. E' un estratto del post della conduttrice televisiva. Post che sta facendo così tanto discutere. La verità. La versione italiana del Me Too. Sesso, bugie e videotape a Confcommercio. Colpo di scena sull'intrigo delle presunte molestie di Carlo Sangaglia. La segretaria per un'indagine privata. La sedicente vittima sarebbe legata all'ex DG che diceva al Presidente devi dimetterti. E poi a centropagina la fotografia di Boeri. Boeri senza freni. L'Inps non è fascista ma il governo è maschilista. Ancora l'Unione Europea ci ricatta. Trump salva i nostri affari. Dall'Eurogruppo attacchia l'Italia ma nessuna decisione. Gli Stati Uniti iranno niente sanzioni per Roma. Sul giornale di Maio ammanetta la Lega. C'è area di crisi anche secondo il giornale nel governo Salvini. Sul punto di cedere sulla prescrizione è la deriva giustizialista. Da sondaggi la maggioranza al minimo di gradimento. Passiamo al secolo d'Italia. Un paese di imprenditori. L'Istat smentisce un altro logo comune. L'Italia ha rispetto al resto d'Europa un numero esorbitante di micro imprese. Nonostante i morsi della crisi degli ultimi dieci anni. e poi nel primo piano prescrizione Caos Lega 5 Stelle. Fratelli d'Italia, Camere in ostaggio. Poi Moscovisia attacca Roma. La risposta è compatta e fiducia sul DL Salvini. Fronda 5 Stelle in ritirata. Sul mattino di Napoli ancora lo scontro su giustizia e sicurezza. Tensione nel governo. Il Movimento 5 Stelle non molla sulla prescrizione. Decreto migranti. Il voto può slittare. Conte convoca i leader gialloverdi. Manovra. Tria sotto accusa l'Eurogruppo. Ma ora si tratta. Questo è il sunto politico da parte del mattino. E poi l'incubo rifiuti. Impianti pieni. Napoli rischia. Torna dunque una possibile emergenza in Campania e nel capoluogo. E ancora per quanto riguarda invece lo sport. La sfida Champions. La carica di Ancelotti. La grande notte del PSG. Il San Paolo. Uomo in più. Invece l'Inter affronta il Barça. Andiamo adesso, visto che abbiamo introdotto il tema, scusate, sui quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ecco qui la notte di Champions. A San Siro alle 21. E rompe il Barça. Inter che notte. Stadio strapieno. Il record d'incasso. Nainggolan c'è. Messi va in panchina. Spalletti all'attacco dei Blaugrana. Per la rivincita e per centrare gli ottavi. Si affida anche alla spinta degli oltre 73 mila tifosi. Quasi 6 milioni dal botteghino e primato italiano. E poi vediamo le altre notizie. A Napoli riecco Buffon con Neymar e Mbappé. Re Carlo e le stelle del PSG. Avanti senza calcoli. Intervista a Blanc, ex tecnico dei parigini. Ancelotti è un gioco offensivo e con Mertens in signe. Verratti non è migliorato secondo Blanc. Poi domani Juve United che incroci. CR7 gol per Mourinho. Pogba gol per Max. Ronaldo insegue il primo centro in Coppa con la maglia bianconera. Si rivede Polla a Torino. Gli amici dicono tornerà. Per i ritratti di Condosti. De Allegri era Bon Vivant. Ora è macchina da trofei. Pericolo CSKA per la Roma. A Mosca con una missione. Alzare il muro e non subire reti. Nel taglio basso. Nuovo Romagnoli formato Europa. Il Milan a secca il 13. Alla scoperta del capitano Goliador. Una maglia pesante sulle spalle. Quella di Nesta e l'eredità di Bonucci. Ma Alessio continua a crescere. E poi l'intervista. Fenomeno Doncic in NBA è già un big. Ma che emozione incontrare Leveron James. Andiamo sul Corriere dello Sport. Come due finali e come non dare torto al Corriere. Champions da favola. Napoli e Inter contro i Colossi d'Europa. E poi la Juventus aspetta Mourinho con i suoi professori. Chiellini e Bonucci. In casa Mila. Nanzia per i Guain. Ma punta Max. Salta il Betis. Vuole sfidare la Juve. Oggi esami decisivi. Empoli cambia. Arriva Iachini. Via Andrea Zoli. L'allenatore del ritorno in A. E poi Gravina sposa Mancini Cittì. Il presidente della FIGC. Non l'ho scelto io. Ma è l'uomo ideale. Andiamo su tutto sport. Il titolo di apertura. Via Benatia. Ecco Delit. Il marocchino medita l'addio. La Juve ha individuato nell'olandese. Il suo sostituto ideale. Occhio alle mosse di United e Barcellona. Interessate al bianco e nero. Ma possibili concorrenti per il talento dell'Ajax. Nel taglio alto. Supermercato Champions. Napoli elimina il PSG. E ti avvicini a Cavani. Inter batti il Barça. E ti regali Herrera. Noi adesso ci possiamo fermare qui con la lettura delle prime pagine. Andiamo in pubblicità. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci insieme di nuovo per la seconda parte della nostra rassegna. Già vedete alle mie spalle le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. In particolare la pagina Abruzzo del messaggero tutta dedicata alla politica. L'Abruzzo al voto. Forse Italia fa confusione. In questo modo può indebolirci. Fratelli d'Italia con il coordinatore Sigismondi afferma il candidato a noi non si discute. Gli unici cambiamenti sull'accordo possono arrivare dal tavolo nazionale. Questa l'intervista sul messaggero. E poi nel taglio basso pronta l'alleanza del centro-sinistra. Manca soltanto il sì di Legnini. Il cartello delle liste prevede il PD, un gruppo di centro che fa capo alla Chiavarogli. Articolo 1 e Verdi. Lasciamo il messaggero. Andiamo sul quotidiano Il Centro dove si parla di economia. Nelle pagine di primo piano. Aziende che assumono quattro nuovi bonus. Dai laureati con 110 lode, ai disoccupati e alle donne. le agevolazioni previste dal Decreto Dignità e dalla legge di bilancio. I bandi in Abruzzo. Agricoltura aiuti per 5 milioni ed oltre 500 imprese. E poi nel taglio basso le nomine. Cambia il vertice di fondi impresa. Di Giuseffatte, il nuovo presidente, si impegnerà per 6.700 società abruzzesi. Pagina successiva. I centri commerciali. 6 iper passano a Conad con oltre 1.000 dipendenti. Operazione conclusa. 3 sono in Abruzzo. Colonnella, città Sant'Angelo e d'Ortona. Il via libera dell'antitrust permette il cambio già dall'inizio del prossimo anno. E poi nel taglio basso. Dossier rivela. In Abruzzo 700 casi abusive. La strage in Sicilia spingere Cambiente a rilanciare la propria indagine sulle strutture ad alto rischio. La pagina Abruzzo parla di sindacato con l'assemblea della CGL Funzione Pubblica, Paola Puglieglie. La prima segretaria, Abruzzo Molise, approvata a Montesilvano la fusione delle due segreterie regionali, due realtà territoriali unite dalla crisi sotto il profilo sociale ed economico. Di spalla verso le regionali, Bellachioma ribadisce e Foschi, il mio preferito. Nel taglio basso, l'Abruzzo da ieri a Londra per catturare i turisti per quanto riguarda la promozione. E poi andiamo a vedere le pagine di Pescara. Nuove opportunità di lavoro, comune, via i concorsi per 13 posti, in arrivo le selezioni pubbliche per periti, tecnici, informatici e istruttori socioculturali, stipendi lordi da 1.500 a 1.844 euro. Nella pagina successiva, Via Pepe, la denuncia di cittadini ed ambulanti, mercato, allarme e borseggi, arrivano i vigili in Borghese, questa è la doppia pagina del centro sull'argomento sicurezza. Via Valignani, il caso, qua si fa sesso dietro i cassonetti, abbiamo paura ad uscire la sera, dicono alcuni residenti. E poi arriva un agente, scatta il fuggifuggi degli abusivi, rapidi a ripiegare i lenzuoli con la merce, e gli irregolari rioccupano i marciapiedi quando le forze dell'ordine si riallontanano. Funky e hip hop fra casse di frutta e verdura, ieri il debutto del progetto musicale, i prossimi eventi nelle strutture di Via dei Bastioni e Piazza Muzzi. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la pagina successiva, dove si parla di politica ma in chiave tutta pescarese, il sindaco pronto a mandare via Diodati, resa dei conti nel centro-sinistra dopo le provinciali, vertice fra Alessandrini e Di Matteo per cercare di recuperare lo strappo. L'assessore molto vicino alle posizioni del consigliere regionale rischia di perdere di nuovo il posto in giunta. Per l'esame del voto il PD convoca la direzione provinciale. Noi adesso andiamo ad ascoltare proprio l'intervista a Donato Di Matteo realizzata da Paolo Renzetti, in cui si analizza il voto e gli scenari futuri. Sono passate poche ore dalle elezioni provinciali e a Pescara c'è stata la vittoria del centro-destra, ma anche l'esploit della lista civica di Donato Di Matteo con un ottimo risultato raggiunto da Catani. Questa spaccatura nel centro-sinistra Di Matteo ha determinato anche indirettamente la vittoria del centro-destra. Lei a bocce ferme, a mente fredda, rifarebbe quello che ha fatto? Sicuramente e vorrei subito partire con un ragionamento. Da tre anni io non sono iscritto più al PD, non riconosco più il centro-sinistra per quello che è stato prodotto negli ultimi anni. Ho messo in piedi, insieme ad altri, una lista civica che ha un suo programma che per la mia storia personale ritengo oggi siano più importanti gli uomini e i programmi e non tanto gli schemi di partito. Ho visto tante volte il mio schieramento politico fare cose completamente negative contro la logica delle mie grandi battaglie e dei miei grandi movimenti ideologici. Questo partito a livello regionale è un partito padronale, con persone che non hanno capacità di essere democratici, spesso hanno dimostrato un'arroganza e una prepotenza. E io con questo tipo di sistema non ci voglio stare più. Ma in vista delle regionali e poi delle amministrative si voterà in centri importanti come Pescara e Montesilvano, la sua lista civica resterà nell'alveo del centro-sinistra? Ma non siamo più sicuri dentro il centro-sinistra. Lavoreremo nella direzione di far condividere a chi chiede una collaborazione i nostri programmi e soprattutto per mettere a capo degli uomini che siano in grado di governare questa fase di svolta contro il dalfonsismo, diversamente dal dalfonsismo e soprattutto all'opposto del dalfonsismo. Andiamo avanti. Stanno facendo un ottimo lavoro. Restiamo su questo argomento. Andiamo a vedere anche l'articolo del centro, la tragedia di Rigopiano. I familiari in procura, via le macerie dalla spa, incontro con i magistrati, inchiesta chiusa entro il 18 di novembre. Il comitato vittime, la prescrizione, il nostro incubo più grande. Questo è anche l'articolo del centro e noi possiamo andare a vedere il servizio. È durato poco più di un'ora l'incontro in procura a Pescara tra i parenti delle vittime di Rigopiano e del procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e del sostituto Andrea Papalia. I magistrati che conducono l'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano hanno illustrato le novità dell'inchiesta stessa che non è ancora chiusa all'uscita da Palazzo di Giustizia. Abbiamo ascoltato Gianluca Tanda in rappresentanza proprio dei parenti delle vittime di Rigopiano che ha spiegato e ha parlato di quanto detto all'interno del tribunale con il procuratore del suo sostituto. Le novità non ci sono, ovviamente loro mantengono il segreto, però usciamo più fiduciosi rispetto a come siamo entrati. Abbiamo capito che fra pochi giorni chiuderanno le indagini e ci saranno i primi rinvii a giudizio. La cosa ci fa piacere perché così possiamo anche essere noi parte integrante di questo processo. Possiamo anche dire la nostra. Noi non molleremo di un solo passo questa nostra battaglia. Abbiamo fatto le domande, alcune non ci rispondevano, però si capiva, si capiva dalle loro espressioni. La voce diceva no, ma in realtà era un sì. Quindi questo abbiamo capito noi. Vediamo, fa tre o quattro giorni se riusciamo pure noi, perché veramente l'attesa dell'ocurante, due anni quasi, sono tanti, sono tanti di attesa. Havremo venti giorni di tempo per leggerci le carte, le leggeremo insieme ai nostri legali, tutti quanti insieme al nostro comitato, faremo le nostre scelte e vedremo cosa manca, perché secondo me qualche cosina manca all'interno. Restiamo e anzi torniamo sul messaggero nel taglio basso della prima pagina di Pescara. Bussi e Pescara Ovest esposto sulla sicurezza di viadotti a 25 dopo Teramo e L'Aquila. Anche la procura pescarese ha lavoro in seguito ad un esposto di nuovo senso civico e poi di spalla. È ufficiale la cessione di tre Iper alla Conad, cambio delle insegne per mille lavoratori. Nella pagina successiva, luminaria natalizie da 250 mila euro, commissione divisa, la Camera di Commercio ne mette 150 mila per le luci d'artista e il Comune 100 mila. Pignoli aiutiamo le famiglie povere, Casciano sollecita installazione in tutti i quartieri, partito il bando, l'accensione attesa per l'Immacolata. E poi, intesa vicina per i palazzi clerico Blasioli, mettiamo fine al degrado. Dopo 50 anni il riconoscimento della cubatura consentirebbe di rivendere l'area oggi in abbandono. Andiamo avanti, l'insospettabile spacciatore della Pineta. Appena 18 anni, italiano incensurato nella terra di nessuno sotto il controllo dei senegalesi, vendeva marijuana ai giovanissimi. La sorpresa dei genitori all'arrivo dei carabinieri di Montesilvano, in cameretta, nascondeva una scorta di droga e mille euro di incasso. Ancora cade da un albero grave, un'ottantenne di vicoli, questo l'incidente. Poi, quando a Montesilvano si addestravano i soldati per riflessioni sulla Grande Guerra, multe e golle, vigili calciatori in partenza per il campionato di Andria. Stiamo sul messaggero, andiamo nelle pagine di Chieti, dalla magia delle luci d'artista ai mercatini, così sarà il Natale. La giunta vara un cartellone unico degli eventi e stanzia 40 mila euro e il presepe vivente di Breccialora entra nelle manifestazioni istituzionali. Tradisce e picchia la moglie, commerciante a giudizio, l'uomo è accusato di lesioni e maltrattamenti. La donna chiede i danni per la sanità, da domani vaccinazione al via, 70 mila le dosi nell'ASL di Chieti. Andiamo avanti, nella pagina successiva il Comune annuncia 66 rinforzi, manovre a Lanciano per lo svecchiamento del personale, due legali per l'avvocatura, altri arrivi attesi entro il 2020. Il sindaco Mario Pupillo parla di un passaggio epocale, Orecchioni, assessore al bilancio, dice che la spesa è sotto controllo. Tolto il blocco imposto dal patto di stabilità si può finalmente sostituire i pensionati. Sasi, la fine dell'incubo per 67 precari, tutti assunti a tempo indeterminato. Il presidente basterebbe, dice, concludiamo un percorso scrupoloso sul quale però ci sono state tante polemiche. Andiamo a vedere insieme il servizio. In 67 dipendenti, dopo aver superato la selezione dei mesi scorsi e aver firmato il contratto ad aprile, sono ora impiegati a tempo indeterminato. Lo annuncia in conferenza stampa a Lanciano il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, assieme alla vicepresidente Paola Tosti e al direttore generale Giorgio Marone. Un iter complicato sul piano burocratico per i limiti imposti dalla riforma Madia, ma anche per via delle contestazioni politiche e delle denunce presentate dal presidente della commissione vigilanza all'emiciclo, che aveva scritto nell'esposto 54 nomi di futuri vincitori della selezione, personale già interno alla Sasi e precario anche da oltre 10 anni. Non c'è traccia dell'inchiesta, commenta Basterebbe, che annuncia un altro bando per 20 assunzioni all'inizio del nuovo anno. L'attuale pianta organica di 165 dipendenti è insufficiente a garantire l'efficienza necessaria dell'ente, che gestisce il servizio idrico integrato in 92 comuni del Chietino. I lavoratori hanno ricoperto per lunghi anni ruoli e mansioni sottostimati, nel senso che non avevano i giusti livelli di appartenenza. Mi sono impegnati con loro che entro la fine dell'anno risolveremo anche questo problema, in quanto stiamo riorganizzando la totalità della pianta organica, quindi la riorganizzazione futura di questa azienda e questo CDA ha in mente di chiudere, prima del mandato che è a marzo-aprile di quest'anno, di eseguire nuovi bandi per dar vita a un'organizzazione più organica e più omogenea per tutte le esigenze che questa azienda ha bisogno. Continuiamo con i giornali abruzzesi, le pagine di Chieti sul centro si aprono con l'inchiesta della procura su San Giustino, in particolare sul muro sfondato in chiesa, il prete è indagato, inchiesta aperta dopo la scoperta di un corpo mummificato, l'accusa parete rotta senza il permesso della sovrintendenza e poi nel taglio basso lei scopre il tradimento e lui la picchia, marito violento, finisce a processo e ora dopo anni di soprusi la moglie chiede 50 mila euro di danni. Avvasto l'inchiesta sul cimitero Tangenti, chi ha pagato rischia il processo, la procura è intenzionata a chiedere il giudizio per 14 utenti indagati per aver risposto alle richieste di denaro dei tre arrestati. Il 12 di novembre il Tribunale del Riesame discute sulla rimissione in libertà di due dei tre addetti al servizio ma l'accusa ha presentato ricorso. Poi ancora morì con la moto, oggi la sentenza, operaio della Pilkington caduto alla sbarra vigilante della strada provinciale, picchiata e vessata per anni, prima udienza per il marito, anche a vasto nel taglio basso. Speranza sinistra unita alle regionali, leader di articolo 1 nel prossimo voto, l'ex vicepresidente delle CSM Legnini e l'uomo giusto. Andiamo nelle pagine di Teramo sul quotidiano Il Centro. Operato al femore, muore in ospedale, il 65enne di Castelnuovo deceduto per setticemia. Dopo la denuncia dei familiari il PM dispone all'autopsia, attesi diversi indagati. Questa l'inchiesta al Mazzini, l'uomo titolare di un bar, il 5 di ottobre andato sotto i ferri, il 28 entrato in coma, sequestrata la cartella clinica. Sempre per quanto riguarda la ASLE, le carenze di personale, prorogati 45 contratti di sostituzione, assunti altri 9 operatori a tempo indeterminato. Nel taglio basso, in città, atleti paralimpici da tutto l'Abruzzo per la convention regionale di Special Olympics Team. Pagina successiva, la ricostruzione lumaca, previste 12.000 pratiche, rischio caos e la stima delle richieste in arrivo dall'ufficio speciale, fracassa di questo passo. Ci vorranno decenni per smartirle tutte. Poi la qualità dell'olio in valvibrata, meno olio, ma di maggiore qualità, quello salvo dalla mosca olearia. Andiamo sul messaggero, ecco le pagine di Teramo. Paziente ucciso dalla setticemia dopo l'intervento per la protesi. Anche qui questa è la notizia di apertura. Sala chirurgica esaminata dal NAS e cartella clinica sotto sequestro di Flaviano sottoposta operazione per le conseguenze di una frattura. La Procura ha avviato un'inchiesta in seguito alla querela dei familiari. Di spalla campagna di vaccinazione interessati 50.000 anziani e poi nel taglio basso rifiuti, 2,6 milioni per chiudere il sito della discarica La Torre. Niente lavori nella discarica. Il sindaco Galiffi si difende. Chiusa l'istruttoria che vede il sindaco di Mosciano imputato, accusato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in riferimento alla discarica di Santa Assunta. Nella pagina successiva, Gregori, nuovo primario di cardiologia a Giulianova Scolano di 59 anni, proviene dall'ospedale Mazzini dove responsabile della struttura UTIC e vice dell'unità operativa prenderà il posto di core e chi ha fatto ricorso sull'attribuzione del punteggio verrà discusso in tribunale il 7 febbraio prossimo. Ancora, santuario blindato per fermare i ladri, che impressione vedere quel coltello. Poi ancora nel taglio basso, ancora un furto con spaccata a pagliare, razziati canestrato, pecorino e ventricina. Andiamo sulla città per vedere anche il quotidiano della provincia di Teramo. Nella pagina Abruzzo, sisma, costruttori pronti alla mobilitazione per lanci. In questi sei mesi il Governo nazionale è stato del tutto assente sui problemi legati al post-sisma. L'inchiesta che abbiamo già visto, muore a 65 anni dopo un intervento al Femore, 65 anni di Castelnuovo colpito da setticemia, si è spento dopo un mese di coma. I familiari hanno denunciato. Stanziati i fondi per tombare la discarica, la torre crollata nel febbraio del 2006. Sono 2,6 i milioni a disposizione. Ancora, ufficio tecnico paralizzato alla Gammarana, 8 postazioni per oltre 40 dipendenti, niente internet, pratiche a mano e dirigente scaduto dopo il trasloco forzato. Il PD dell'entroterra accusa quello della costa, siamo alla politica, partito spaccato dopo la mara sconfitta alle elezioni provinciali del sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso. I migranti, Teramo nella fronda anti-Salvini, dopo Torino e Bologna, la giunta comunale chiede di sospendere le nuove norme su rifugiati e richiedenti asilo Sprar. Ancora pagina successiva, il verde affidato a chi non ha formazione, la denuncia degli ordini degli agronomi e degli architetti che chiedono ai comuni di rivolgersi a specialisti. Comune a Rimini per le isole ecologiche, amministratori e vertici della terra, teramo ambiente alla fiera Ecomondo per valutare le correzioni più economiche al porta a porta. Il 4 novembre, d'Alberto cita Pertini e il richiamo all'unità al monumento ai caduti di Crocetti, celebrate le 5 mila vittime terramane della Prima Guerra Mondiale. In provincia, troppi dubbi sulle manutenzioni in paese, i consiglieri di Montorio avanti insieme, preoccupati per il futuro dei 295 mila euro lasciati dalla passata amministrazione. A Teramo, a processo per il taglio degli alberi, non avrebbero rispettato le disposizioni abbattendo più piante del dovuto. E poi la foce del Salinello continua a fare paura, i residenti lamentano la carenza di interventi. Ad Atri, edificio pericoloso nei pressi del centro storico, Marcone e Basilico presentano un'interrogazione sulle condizioni del Palazzo Enel di via Ricci Conti. Il lutto a Roseto che rende omaggio a Vittorio Fossataro. Questa mattina l'ultimo saluto allo storico dirigente del basket cittadino scomparso domenica all'età di 78 anni. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo nelle pagine dell'Aquila. Dopo dieci anni arriva il monumento alla Casa dello Studente, l'idea del Memoriale Shoah. Il progetto vincitore del concorso è stato realizzato da quattro laureandi e ispirato al campo realizzato a Berlino. Nel taglio basso termina la Lannina, il territorio si mobilita. Interrogazioni e emozioni per il dietro fronte della Giunta Raggi in campo. Anche CNA e Confcommercio per lo spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Lannina. Nella pagina successiva, insulti al Veneto, dirigente Asle nella bufera, Avezzano post comparso sui social dopo la tragedia del maltempo scatena la polemica. Tordera il responsabile sarà punito, così il manager della Asle. Poi ancora il sindaco revoca la delega alla Morgante. Siamo a Celano e andiamo prima di passare allo sport a vedere le pagine dell'Aquila anche sul messaggero. Al posto della casa dello studente, un luogo di riflessione e speranza. Anche qui questo è il titolo con la notizia di apertura. Il lavoro e opera di quattro laureandi in ingegneria sarà una frattura tra il dolore e la voglia di rinascita. E qui vedete proprio un rendering del progetto. Andiamo a vedere il caso di caos. Ricorderete il cane eroe del terremoto ucciso e il giallo delle ferite. No alla archiviazione. Andiamo avanti. Rinasce il murale di Fulvio Muzzi. In anteprima ecco il restauro dell'eroicizzante a fresco nella sala consigliare di Palazzo Margherita d'Austria. La preziosa documentazione fotografica effettuata dopo il sisma decisiva per riparare le ferite tra crepe di stacco dell'intonaco. Nella pagina di Avezzano Sulmona, Santilli deciso, la Morgante è fuori a Celano. Clamoroso epilogo della crisi scoppiata nella giunta. Adesso apriamo le pagine di sport. Partiamo dal messaggero. Chiaramente il Pescara in primo piano. Pescara nel segno del sole. Mancuso in avvio. Poi Gravion per il doppio vantaggio. Il Lecce riapre la partita già nel finale della prima frazione. Gli ospiti in nove trovano il gol del momentaneo pari. Pillon si affida al numero 29 che fa 4 a 2 ed è primato. Sono felicissimo che doppietta per il man of the match Ferdinando del Sole. Nel taglio basso Sebastiani sorride. Primo tempo di altissimo livello. Nando ha tirato fuori la giocata dal cilindro. È stata una bellissima partita tra squadre che giocano davvero bene al calcio. Andiamo a vedere anche la doppia pagina del centro sulla partita del Pescara. Eccola qui. Notte magica. Del Sole riporta il Pescara in vetta. Entra al 38esimo della ripresa e spacca la partita mettendo a segno la doppietta che stende il Lecce. Prima mezz'ora dei biancazzurri avanti 2 a 0 poi raggiunti dai giallorossi che poi vengono superati nel finale. La capolista. Centesima vittoria in B. Pillon si gode la vetta. Gran Pescara per 45 minuti ma non dovevamo subire il gol dell'1 a 2. Bisogna gestire meglio le partite. Questa è l'opinione del tecnico di Preganzioli. Spulso nel finale. Si è fatto 50 metri di corsa per abbracciare del Sole. È felice per lui. È giovane ma ha grandi mezzi. Prima di andare a vedere la partita completiamo la lettura del centro. Le pagele dei biancazzurri. Graviglione, una diga, Marras imprendibile, Mancuso, un gol da capocannoniere. Bene anche Brugman. Del Sole, la Juve mi ha fatto crescere. Il fantasista tornato in prestito dai bianconeri. Spero di aver imparato il giusto da CR7. Sono pronto a guidare il Pescara, il ventenne napoletano protagonista del successo contro il Lecce. Il primo gol è quello che sento più mio. Lo provo spesso in allenamento. Lo volevo, l'ho cercato e l'ho fatto. E allora, andiamo a vedere il gol di Del Sole. Non solo nel racconto della partita che ci fa Paolo Renzetti. Una doppia prodezza di Nando Del Sole a tempo scaduto regala alla Pescara una vittoria insperata su un Lecce Maidomo e che ha chiuso la gara in nove uomini. Il 4-2 dell'Adriatico è arrivato al termine di 90 minuti in cui è accaduto di tutto e di più. Il Defino è di nuovo da solo in testa alla classifica, ma come dice Pilon, occorre volare bassi e non guardare la graduatoria per la sfida con i giallorossi. Il trainer abruzzese si affida alla squadra tipo in difesa. Si rivede Del Grosso, ma in attacco Mancuso e la punta centrale con Marras e Antonucci sulle fasce. Fra i giallorossi dei 5 ex Biancazzurri ci sono in campo solo Venuti, che gioca a sorpresa centrale di difesa, e Fiamozzi con Pettinari e Bovo. Infortunati, panchina per Di Matteo e Falco. Buona cornice di pubblico allo Stadio Adriatico. Di fronte ad oltre 8 mila spettatori, dirige Di Paolo, Di Avezzano. La prima emozione di Marco Abruzzese con il gol pronti via al terzo e con una grande azione sulla destra fra Marras e Memusciai e con il cross a centro area dell'Albanese per la testa di Mancuso, che non sbaglia per l'1-0, che fa esplodere lo Stadio Adriatico. Doccia ghiacciata per i Salentini e settimo sigillo per il giocatore originario di Milano. Il Lecce, seppur colpito a freddo, reagisce iniziando a premere, ma il Pescara è cinico e spietato, almeno nella prima parte di gara e al 22esimo sugli sviluppi di un angolo. Gravion tira a due passi da Vigorito con il ginocchio, mettendo il pallone alle spalle dell'estremo pugliese. Festa per gli 8 mila dell'Adriatico con i Biancazzurri, che al 24esimo arrivano anche ad un passo d'altrisse, con la conclusione al volo di Mancuso, che mette di poco sopra la traversa. Liverani, tecnico del Lecce, si agita dalla panchina, ma il doppio K.O. è un brutto colpo a livello morale, anche se al 40esimo è Palombi in area pescarese a calciare al volo al lato di poco. E il preludio al gol della formazione ospite, che arriva al 47esimo dopo un tiro di scavone respinto da Fiorillo e con il tap-in vincente di Palombi, che realizza il gol del 2-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa si ricomincia senza sostituzioni e con gli stessi 22 di avvio partita e con il Lecce, che colpisce al quinto una clamorosa traversa con l'Amantia. Altro episodio importante della gara. All'ottavo con Calderoni, che già monito va a commettere fallo su Marras, rimediando il secondo giallo ed il rosso. Ospiti in 10 con Liverani, che manda sul terreno di gioco marino per scavone. Gli ospiti non demordono e al 17esimo è Mancoso a concludere al lato dai 25 metri. I biancazzurri a loro volta spingono, senza però scoprirsi, beccando però al 23esimo in superiorità numerica il gol del 2-2 segnato di testa da Tabanelli. Tutto da rifare per un Pescara che gioca con grande nervosismo e con Pillon che manda in campo Crecco per Antonucci e con la risposta del tecnico ospite che spedisce sul terreno di gioco l'ex biancazzurro Falco per l'Amantia. Ile Delfino accusa il colpo, ma al 32esimo il Lecce resta in 9 per la doppia munizione combinata a Meccariello. Nel Pescara arriva così il turno di Monachello per Macin. Al 39esimo la svolta perché entra del sole per Marras con i biancazzurri che spingono. Si arriva nel finale in cui gli abruzzesi attaccano in modo confusionario, trovando al 90esimo il 3-2 grazie ad un Eurogoal proprio di Nando del Sole che poi al 96esimo fa 4-2 con Pillon. Allontanato qualche attimo dopo dalla panchina per proteste, ma per il Pescara è davvero festa grande al 91esimo con tutti i giocatori sotto la curva nord. Lasciamo la Serie B ed il Pescara, andiamo in Serie C, partiamo dalla città per parlare del Teramo. Teramo inizia il Valzer delle punte, Costantino è complicato, stanco molto più fattibile. Poi ci sono i suggerimenti di Maurizio che vorrebbe Bianchimano che ha già avuto a Reggio Calabria. Nel taglio basso rientra Altobelli, dubbio di Renzo, l'Effe senza sbaffo. Il difensore ha saltato la gara di fermo per precauzione. Da oggi si allena con i compagni. Andiamo sul centro a vedere il titolo dell'articolo sul Teramo. Dopo la sconfitta di fermo, il Teramo punta sul fattore Bonolis. Nelle prossime quattro gare il Diavolo giocherà tre volte in casa contro avversari abbordabili. Mercato, idea Costantino per gennaio. Titolo sul Teramo anche del messaggero. Eccolo qui, Costantino è stanco nel mirino del Teramo. Si tratta di due attaccanti, visto che davanti si soffre troppo. Potrebbero arrivare alla riapertura invernale del mercato. Restiamo sul messaggero con la D. Cambio modulo, il tridente del Giulianova è efficace. E poi Cudini, notaresco il bello della sorpresa. Il mister nel girone, valori livellati in alto. Bene, Blando e Candelloro. Poi il Pineto è quota 60 punti. L'obiettivo si può ripetere. Completiamo il messaggero. Avezzano, troppi pareggi a dicembre. Si cambierà per la vastese. Adesso voglio conferme. Dopo il rotondo successo casalingo, mister Montani a caccia di continuità. E' nettamente migliorato il reparto arretrato. Alloggia, Ferrara e Fiorentini, star dell'Aquila. Siamo al rugby. Giocano i protagonisti della meta tecnica ottenuta vincendo a Roma. Nel taglio basso, il basket con Roseto. Mette nel cassetto due scontri salvezza. La sieco settimana di passione. La classifica ora preoccupa. Torniamo sul quotidiano il centro. Basket, serie a due est. Pieric l'arma in più del Roseto Sharks. Basta distrazioni. L'ala bianco-blu serra i ranghi dopo la vittoria contro Iesi. I K.O. esterni ci hanno fatto bene. Ora testa a Montegranaro. Per il volley di A2 la sieco sabato recupererà Ludovico Dolfo. E ancora il basket con la B. Ciocca se la gode. Il Giulianova sa soffrire. L'amatori vince ma non convince di Emidio all'Europa Ovini. Ci è mancata l'intensità. E poi ancora il calcio a 5. I nerazzurri alle 19 sfidano il Cobà. Coppa della divisione stasera arriva l'Acqua e Sapone. CSKS Lanciano. Gandelli sul tetto d'Europa per quanto riguarda il karate. E la campionessa frentana. Andiamo a vedere anche la città. Completiamo le pagine di Sport con il Giulianova. L'ottobre nero ora è alle spalle. I giallorossi sono tornati alla vittoria contro il Sant'Arcangelo. Stallone è una vittoria strameritata. E poi sempre per la Serie D. Notaresco vittoria di Platino. Ok anche il Pineto. Sabato pomeriggio ci sono due derby. Alle 14.30 Francavilla Notaresco e Pineto Vastese. E' davvero tutto. Grazie per essere stati con noi anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8. La nostra informazione come sempre con il TG6 delle 14.00. E poi la seconda edizione alle 19.00. L'edizione della notte alle 23.00. Questa sera alle 21.00. C'è anche l'appuntamento con Proteramo. E' davvero tutto. Adesso grazie ancora. E buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.